E' il mio telecomando, sai bene quel tocco, mi radice su YouTube, è tutti stupido Cos'è questo? Vado in TV per la prima volta ma finisce? Chi è il capo? Un milione di visite? Sto ora non guidando la teoria C'è che girare? Sono Lamborghini No Mario Giordano però no, via voglio vedere Un modello stupido Questo sono io, ma come sono finito in TV su canale 5 E' finito agli arresti domiciliari, lo YouTuber che era alla guida del su Il giovane YouTuber di Casal Palocco ha travolto l'auto con a bordo una madre e i suoi due bambini alla periferia di Roma Ma io cosa c'entro in tutta questa vicenda? Tutto inizia da questo TikTok che ho fatto semplicemente per dire da mia Parlo da amico dei Borderline La vita di Matteo, come quella di Manuel, è già finita, è già distrutta Non c'è bisogno che lui riceva insulti da persone che commentano avendo letto le news di giornalisti Che guadagnano buttando merda su una situazione che è già gravissima Anche su questo ci sarebbe da dire molto A parte il tono, secondo me è un po' troppo sbagliato Così impostato La vita è già finita Secondo me ti stai già ponendo male Perché quando c'è la merda e c'è l'opinione pubblica che è contro di te Perché comunque hai commesso dei reati molto gravi Non darei contro i giornalisti Più che altro farei un discorso più generico Cioè parlerei di come i giornalisti hanno preso la notizia dei Borderline E l'abbiano estesa a tutti i content creator che esistono Quello è lo sbaglio Sì, poi chiaramente la gente Vanno lì, li strozzano, ammazzo, vaffanculo Devono venire tutti, estirpateli dalla faccia alla terra No, devono capire Le persone devono capire, devono calmarsi Devono capire che la giustizia deve agire Poi si può stare qui a pontificare la giustizia italiana una merda Poi gli scontano la pena, hanno scontato la pena anche agli assassini del povero Willy No, se non erro Non voglio dire cazzate ma mi sembra di sì Quindi, però Mettendoci Sì, sì, sì Mettendoci nei panni E magistrati, degli avvocati Dei giudici, di tutti quelli che si dovranno occupare Della vicenda, bisogna aspettare che la giustizia faccia il proprio corso E non gridare alla legge del taglione Perché se no non siamo in uno stato di diritto Ma siamo Non so nemmeno io In un'anarchia totale Non va bene, ok? Questo sicuramente Ma non con questo tono, amico mio Non con questo tono Ed è responsabile mettere Ergastro e i due, no? Hanno ridotto la pena Quanto so A quanto pare hanno ridotto la pena Sì, Matteo ragazzo, irresponsabile? No Il video nel giro di pochi giorni è diventato virale Bisogna vedere Bisogna vedere se è stato un ragazzo irresponsabile o meno Aspettiamo sia da una parte Che dall'altra a vedere il corso della giustizia Ok? Raggiungendo un botto di viso No, subito no, così no Tutte le testate giornalistiche parlavano di me Anche se in realtà più che di me ero diventato cristiano Questo anche per dirvi quanto quello che le... Ah, no, a 24 anni L'avevo letto bene Pensavo fosse un sogno Vabbè Leggete sui giornali Hanno ridotto la pena da Ergastro a 24 anni Dai Sì, sono tanti i 24 anni, eh Però non mi ricordo quanti anni avevano I due ragazzi che hanno ucciso E' appestato di botte Willy Secondo me nemmeno 30 Quindi secondo me a 50 anni Escono tranquillamente Ergastro sono 30 Eh vabbè, 7 anni in meno 6 anni in meno 24 E' vero Il giorno dopo Squilla al telefono Numero Ora poi ragazzi C'è altri 24 anni che devono scorrere Vediamo se poi ci saranno altri sconti Vedremo Sconosciuto Chi era La redazione della Mediaset Io ero tipo Pronto? Sì, ciao siamo a Mediaset Pronto? In quel momento ero un attimo sconvolto Perché non sapevo esattamente come prenderla Ti invitano perché sei diventato virale E allora questa sera ci ha raggiunto proprio qui il nostro ospite Samuele Matteini Buonasera lo vediamo già inquadrato Ciao Samuele Ben arrivato Fermo fermo Io in quel momento dove ero? Ero in videochiamata tramite gli studi di Cologno Monzese di Milano Perciò io vedevo e sentivo Bene o male quello che vedete e sentite voi Era come se io mi guardassi all'interno della trasmissione Era stranissimo E lo vedete quel robo nero enorme che ho all'orecchio? Quello è tipo un auricolare degli anni 80 Non so perché in tv usino quei robi Cioè raga sono scomodissimi Possibile che nessuno si sia mai accorto di queste? Adesso È un po' più complicato Vabbè la regia di uno studio televisivo è diversa rispetto alla cuffietta cantacchial portatile Vabbè comunque andiamo avanti Vorrò parlare con te e capire tutto a partire da questo video che tu hai fatto Perché l'hai fatto Poi magari è un modello vecchio eh ci mancherebbe altro Però diciamo che è tutto un altro approccio Anche questo è tutto un altro approccio rispetto Alle regie degli studi televisivi Oh andiamo avanti andiamo avanti Non mi voglio mettere qui a rompere i coglioni su tutto In realtà lo farò Quali sono le cose che ci vuoi raccontare? Da questo esatto momento parte l'intervista Iniziano con un filmato per spiegare un attimino chi ero e che cosa facevo Samuele Matteini in arte Captain Blazer è un amico dei The Borderline Eh così ve lo spiegheranno anche a me perché non lo conosco Raga 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 Ho avuto l'idea Captain Blazer Mobile Satellite Del secolo Oddio però parla Captain Blazer l'amico che difende i Borderline ok Sì lo so già di non essere normale tranquilli Io in quel momento ero a bocca aperta Raga l'intro palesemente fatta per prendermi per il culo Io vi giuro non so che cosa dire Vabbè sono i tuoi video però sì Sì capisco però la rottura di coglioni Che ti vanno a prendere magari solo le robe cringe È come se Bello Però farebbe ride se mi invitassero a una trasmissione del genere Questo è Dario Moccia Per forza Vada pubolo vaffanculo sei una merda Devi morì Devi morì Ti immagini che grande compilation Le interviste Radio Tomodashi Nerd Cultura No 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 Non ci interessa A letto basta Solo questa Ho detto ecco Mo' finisce un disastro E infatti alla fine di questo video Finisce un disastro Ma non vi spoiler Però mi farebbe troppo rire Allora niente andiamo con calma Comunque vabbè ho cercato di far più bella figura che potessi Ho mantenuto la calma E la prima cosa che ho detto Era una piccola battutina sull'intro Che avevo appena visto Tra l'altro mi è piaciuta la presentazione che avete fatto A questo punto Veronica mi chiede In cosa consiste il nostro lavoro E sostanzialmente il nostro No io avrei attaccato qui Blazerone Io gli avrei detto Sì forse ho fatto anche altro Però va bene Dai abbiamo messo le robe più sceme Io avrei detto così subito Per far capire che No pasaran È un lavoro di intrattenimento Non era una battuta comunque Blazerone eh È giovanissimo Dai Lo benediciamo Noi andiamo a far divertire dei ragazzi Che ci guardano Però quello che andiamo a fare noi è un intrattenimento di base leggero E a questo punto mi chiede Che cosa ne penso riguardo all'incidente accaduto ai The Borderline Se tu dici poteva capitare ovunque in qualsiasi strada Che cosa intendi? Io intendo che il video che Allora lui che deve spiegare comunque quello che già sentiamo In questo caso Matteo e i The Borderline stavano facendo Non era un video per far vedere l'auto quanto andasse veloce O per in qualche modo fare delle cavolate con l'auto Era un video di sopravvivenza all'interno di questa vettura Allora dovevano stare 50 ore all'interno dell'auto C'è un video caricato sul canale Che si chiama 50 ore dentro una Tesla Che è identico Solo che utilizzano una Tesla Se noi andiamo ad analizzare quel video Quello che fanno all'interno è Dormirci Non lo so Mangiare il McDonald's parcheggiati Ordinare al McDrive Innanzitutto non si parla di stress da tante ore di guida Questa è una cosa fondamentale Perché la challenge di base è quella di rimanere all'interno del veicolo E non di guidarlo per troppo tempo E fino a questo punto In questa trasmissione erano tutti d'accordo Cosa che non è successa in quest'altra trasmissione fatta tre giorni dopo Questo è irregolare ma perché Ma perdonami Perché è automaticamente colpa di Matteo Perché girare su una Lamborghini O su una macchina che fa a velocità 50 ore Per guadagnare dei soldi È un modello stupido Sì però Scusa Marione Giordano eh Per me è anche stupido Prende con la mazza da baseball Ammazzate da baseball Le cose, le zucche di Halloween E dire Non la voglio festeggiare Non la voglio festeggiare Allora scusami Abbi pazienza Ma che cazzo di differenza c'è Cioè anche te fai un intrattenimento Mescero no? Non me la metto Io non voglio festeggiare Halloween Pensate come sono fuori dal coro Voglio festeggiare la festa di ogni santo E ve la dico ancora più strano Poi voglio anche celebrare la giornata di tutti i defunti E io lo sono fatto così Si spendono ogni anno Beh dia qua Si spendono ogni anno 300 300 milioni Per vestiti Di zombie Di scheletri Di cose orrende Mostuose Punto escalativo Monsters in chat Comunque perché tutto quello che hai enunciato C'è dentro al mio set di carte dedicata ai mostri Quindi Prenotate ragazzi Preordinate Tutto per importare una tradizione che non è la nostra E dimentichiamo invece le nostre radici Dimentichiamo la tradizione La zuppa di ceci E noi mostri in Italia non esistono eh Mario Le tradizioni horror non ci sono in Italia Vietate Vietate Il pan dei morti Famosissimo Consumato in quantità industriali Allora io dico no Io non voglio Non voglio festeggiare Halloween Io Halloween Non lo voglio festeggiare Io Halloween Non lo voglio Festeggiare Non lo voglio Festeggiare Con tutti i vecchi Va bene Quindi dipende Capito sì L'intrattenimento leggero C'è C'è anche C'è stato E c'è ancora Tantissimo nella rete Per cui lavori Mario Giordano Eh Mediaset Insomma È un trionfo di programmi Leggeri Ed ho usato Ovviamente Ho usato Un eufemismo Surreale quasi Però Ecco sì La velocità 50 ore Per guadagnare dei soldi È un modello Stupido Ricordo che a Ciao Darwin Di Mediaset Uno Si è fatto male Se più persone Sono fatte male Se non ero Ma uno in particolare Si è fatto male Sul serio Tantissimo Per la Mi ricordo se era la prova Quella Vabbè comunque C'è stato un casino Ciao Darwin È un intrattenimento leggero E qualcuno ci ha rimesso Per l'intrattenimento leggero È successo anche Per questa roba qua Cioè però io non difendo i ragazzi Eh Ci mancherebbe È andata così Poi ci penserà la giustizia Ad accusarli O ad assolverli O Non lo so Non sono un giudice Quello che dico io È che non ha senso Parla Dire Eh no Questo intrattenimento stupido Non ha senso Per guadagnare dei soldi Questa è una cazzata L'intrattenimento leggero Scemo Stupido Guarda anche Takeshi's Castle C'è sempre stato E sempre ci sarà Bisogna poi però Farlo in sicurezza Ed essere anche un pochino Previdenti Ed essere al sicuro Però questo è un altro discorso A velocità 50 ore Per guadagnare dei soldi È un modello stupido Ma dipende cosa succede In questa lavorativa Ma succede come può succedere A un tassista No Ma vabbè Torniamo un attimo alle domande Sicuramente stavano infrangendo Il codice della strada Però mi pare che questo È il punto importante Cioè tu dici L'incidente c'è stato Loro sono irresponsabili Hanno infranto il codice della strada Ma questo Non c'entra niente Col fatto che stavano facendo Una challenge Una sfida su YouTube Perché in realtà Lì loro guidano Il 10% del tempo Fida Quindi questo va preso Come un incidente stradale Sono abbastanza D'accordo Non come un qualcosa Causato da uno YouTuber È un incidente stradale Purtroppo capitato Sul posto di lavoro Che in questo caso È il nostro lavoro Quindi in giro Siamo YouTuber Siamo YouTuber E portiamo video Su qualsiasi cosa Ma sentite un attimo Che cosa dicono ora Allora Samuele Questi sono tra gli elementi Per esempio Che alimentano Andavano a 120 orari Sì Shen Aspetta però Hai ascoltato Quello che è stato detto Si hanno commesso Delle infrazioni Si hanno commesso Dei reati stradali Verranno puniti Per quello Lui ha detto Che non c'entra nulla Il fatto che siano YouTuber Perché se te vai a 120 Per filmare E questa cosa E metterla su YouTube Io credo che non Non sia Non sia stato fatto Per quello È un conto Se invece vai a 120 Perché se è un coglione È un altro Cioè questo è un po' il punto L'insofferenza della gente Il fatto che loro Siano andati all'estero E si siano messi in fuga Il fatto E ti domando Ma questa Questa è surreale Questa è veramente surreale Perdonami Questa news Veramente per me È surreale Il fatto che loro Ora siano uno in Spagna E uno in Turchia Anche perché io te lo posso chiedere Tu sei amico di Matteo No? Lo sappiamo Io sono amico di Matteo Non lo sto sentendo Perché non lo sto sentendo Ma sono amico di Matteo E mi sembra surreale Il fatto che ora loro siano Uno in Spagna E l'altro in Spagna Andavano a 120 per il video E fare ganasa Dai Dario Io a quanto so No Però smentitemi ai ragazzi Perché poi non ho più seguito La vicenda Può darsi eh Però non mi pare Che sia Che sia Che Andassero a 120 Per il video Almeno per ora Non lo sappiamo Non lo so O chi Io devo essere sincero E infatti Il giorno dopo Si scoprirà Che questa news È falsa Come tantissime altre Riportate dai giornali Ma andiamo avanti Signori e signori Sentite chi sta per parlare Il capo dei fenomeni Non lo sapevo No sinceramente Lui è veramente Una persona autore Cioè io Non lo pensavo È veramente uno Importante Molto importante Infatti non sapendo chi fosse Io ho dato del tu Per più o meno Tutta la chiacchierata Che è andata un po' così Guarda L'unica cosa Minzolini Tu io sono d'accordo con te Fai bene Sono tuoi amici E li difendi Anche lì Io non li sto difendendo Io sto dicendo Che la dinamica Dell'incidente Con i The Borderline Non c'entra niente Con la challenge Che stavano facendo E con il fatto Che sono youtuber Poteva capitare Un avvocato? Sì Poteva capitare Un medico? Sì Poteva capitare Un tassista? Anzi più probabile Che capitasse un tassista Guiderò 10 ore al giorno Però francamente Cioè teorizzare Una cosa di questo tipo Rispetto a questa vicenda qui Mi lascia un po' perplesso Qui bisogna avere Un atteggiamento Un po' più pacato Ma contemporaneamente Puoi fare tutto quello che vuoi Basta che non metti A ripentaglio Diciamo la vita di altri D'accordissimo Ma tu hai proprio detto Codice della strada Ma noi abbiamo Una legislazione Che riguarda Diciamo il codice stradale Questo è un caso Che deve essere preso Come un incidente Stradale Mortale Il fatto che loro fossero Youtuber Non cambia le carte in regola Perché Matteo Se voi guardate anche Il video della Tesla Quello che stavi facendo È quello che stavi facendo Dentro quell'auto Oh fammi parlare Fammi parlare Non ti ho mai interrotto Ci abbiamo 19 anni Tu non so quanti ne abbia Mi stai interrompendo te Quando Matteo Utilizza Cazzo lo dice dopo Vabbè comunque Raga È sempre Il punto è sempre lo stesso Il punto è quello Che ho espresso all'inizio Se per ora Non è dimostrato Che la challenge La challenge Centri qualcosa Con quello che è successo Durante l'incidente Durante la dinamica Dell'incidente Non c'entra nulla La challenge Non c'entra nulla Youtube Non c'entra nulla Tutti gli altri Non c'entra nulla Tutti gli altri Youtuber C'entra solamente il fatto Che abbiamo fatto Una cazzata enorme Che siano andati a 120 A quanto pare Tra l'altro Si presume sotto effetto Di stupefacenti Quindi Questa è una Questo è l'unico discorso In realtà Il fatto che stessero Facendo una challenge Per ora Non c'entra un cazzo Per ora Poi si vedrà Poi magari il giudice dice No Si sono filmati Abbiamo trovato i video Dove si sono filmati A 120 E facevano i tamarri E hanno voluto fare i grossi E quindi è un aggravante Vedremo Un dispositivo elettronico Si fa distrarre dalla guida E fermo Se non fossero stati youtuber Non avrebbero giocato Con la Lamborghini A 20 anni Punto Nicolai Ma te Ma dove credi di vivere? Ma dove credi di vivere? Cioè te credi che tutti i figli di papà Tutti i figli industriali Tutti i figli Di persone ricche Che girano a 18 Una a 20 anni Che a Lamborghini Sono illibati Perfetti Quadratissimi Top Insomma Insomma Io ti invito A fare un giro Anche in Versilia Fatti in giro in Versilia Nei locali giusti E poi ne riparliamo Altro che Non c'è bisogno Di essere youtuber Ma anche una sera In un paesino Con una punto Anche una punto Arriva a 120 Anche una panda Arriva a 120 Ce la fa Se tiri Grazie a Stefanino96 Immobile Uno lo riprende Non viene ripreso da solo Questo è importante È una grande differenza E quindi dopo che il giornalista Mi parla sopra Si interrompono i 15 minuti Che avevamo a disposizione E finisce la trasmissione Ma al giorno dopo Mi richiamano di nuovo in tv E le cose si fanno Molto più interessanti E allora Ci hanno raggiunto Anche il dottor Mendolicchio E c'è collegato con noi Eccolo qui Samuele Matteini Ciao Samuele Bentornato Io ho ascoltato con voi Ecco gli stupefacenti Bisogna vedere Perché rimangono del sangue Per un botto di tempo Raga Si vedrà Non lo dobbiamo decidere noi Il punto in realtà È molto più È molto più semplice Ed è quello che ho detto all'inizio E lo ripeto Ancora con forza Bisogna aspettare Che la giustizia decida Che la giustizia si esprima È inutile Noi non possiamo fare la legge Il teglione Non possiamo subito di Sono dei deficienti Sono dei cretini Youtuber Non youtuber Bisogna vedere Io per ora Posso dire tranquillamente Che chi ha preso Il caso di Borderline Per estenderlo A tutta la categoria Degli youtuber O degli streamer O di content creator Per dire Per dire Vabbè Sono dei deficienti Sono tutti Dei coglioni Dei perdigiorno Che guadagnano Sulle spalle Dei bimbetti Che non capiscono un cazzo Secondo me Non ce l'ho capito molto Nella maggior parte dei casi E così forse Non lo so Però Però Non tutti siamo così Ecco Questo è certo Secondo me poi Entra anche in campo Il fattore gelosia Il fattore invidia Invidia sociale Perché questi ragazzetti A vent'anni Fanno già 5, 600, 700 800 mila euro Di guadagno L'anno Insomma Quindi non aspettavano Altro Secondo me alcuni Però Grazie Riccardo Grazie Robiscop Per l'abbonamento Non sono d'accordo Con la generalizzazione Ma loro sono coglioni Punto Paolo è tre ore Che lo diciamo Ma grazie Per averlo ribadito Perché non l'aveva ancora Detto nessuno Attenzione Ieri Ci sono diversi punti Che mi hanno molto colpito Il primo è proprio questo Il fatto che Samuele Alla luce della sua esperienza Si senta già un imprenditore Lui parla di lavoro Parla di azienda Parla di Figa Non è che lo dico io Lo dice l'agenzia delle entrate Eh porco Dio Se le tasse le pago pure io E lo stesso dice Dei suoi amici Dei spettatori Lui parla di lavoro Il fatto che Samuele Alla luce della sua esperienza Si senta già un imprenditore Lui parla di lavoro Parla di azienda Parla di Figa Non è che Sì Ora vabbè Lasciamo perdere il tono Del fratello Assolutamente Blazerone Che fa Figa Certo Fatturo Pago Lo pretendo Certo Però effettivamente È un lavoro È un lavoro Che produce tanto Che fa guadagnare tanto E su cui paghiamo tante tasse Sì Quindi è un lavoro Mi dispiace Però è così Lo dico io Lo dice l'agenzia delle entrate Eh porco Dio Se le tasse le pago pure io Eh porco Dio E lo stesso E lo stesso dice Dei suoi amici Borderline Mi colpisce come Un ragazzino di che età Samuele Tu quanti anni hai 19 19 anni Abbia già Come dire La capacità Di immaginarsi Imprenditore di se stesso Sbagliata come mentalità No Cioè Vietato Ragazzi Non lo fate eh Non vi azzardate Imbescilli Come vi siete permessi Coglioni Immaginarsi Dio Questa Cosa Samuele dice Questo è un lavoro Immagino che Samuele sappia Che fare un lavoro Svolgere un lavoro Corrisponde a delle responsabilità A me il discorso Che mi ha molto colpito E di quanto appunto Dietro la difesa sfrenata Di strumenti di comunicazione estremi E mo cosa sono Gli strumenti di comunicazione estremi Cazzo è Giacas Di Budi di Giacas Dietro la difesa sfrenata Di comportamenti agiti E mostrati Alla grande platea Ci sia come dire La facilità di immaginare Che tutto questo Rientri solo In un banale Lavoro Quando appunto Ci sono più di un milione Di visualizzazioni Allora È un po' un controsenso Quello che dice il bro Cioè Banale lavoro Fai tanto il furbo E poi citi Quel milione Di visualizzazioni Che effettivamente Porta introite Allo youtuber Strano Vabbè Qui no Qui non ci stiamo capendo Zio Il discorso è Tu l'hai definito Lavoro banale Prima di tutto E poi dici Che ci sono milioni Di visualizzazioni Ma non in blind È falese Non in blind Allora è un lavoro banale O non lo è Guarda Questo ragazzetto Non ha È un diamante grezzo È Bisogna sgrezzarlo Bisogna butti via Sta giacchetta Però Piano 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 Ce la può fare Ce la può fare Vediamo Vediamo Diamo gli altri cinque anni E poi capiamo Ti stai contraddicendo da solo Posso fare una domanda A Samuele Samuele Tu che sei esperto Di questa particolare Vabbè Ecco per esempio Blazerone Questi titoli del cazzo Dio Cristo Ti manca solo la bandana E poi sei social boom Leva questa merda Ma cos'è Dio Cristo Leva un po' Modalità di comunicazione Qua Quanti tu e coetanei Conosci che Ad esempio Leggono Dante su Youtube E fanno un milione Di visualizzazioni Ma assolutamente Nessun Ma cosa c'entra Perché evidentemente Dante non è interessante Per le persone Della mia età Ecco Questo non ti genera Una domanda Rispetto al lavoro Che tu svolgi Lavoro Stava sgridettando Una fica Oh Io scommetto Che ho pagato Più tasse di lui L'anno scorso Si scommetto Posso chiedervi Una cosa Voi negli anni Ottanta Per esempio Quanti di voi Andavano con piacere A scuola Quanti di voi Erano effettivamente Interessati Agli argomenti scolastici Io credo che la percentuale Sia uguale Identica a questa Semplicemente ora Ragioniamo Sui social È la stessa identica cosa Ora tu vedi più cose Perché tutti postano Un contenuto Non è questo il tema Samuele Non è questo il tema La mia domanda È un'altra No In realtà Ci sta Come provocazione La domanda è questa No words raga No words Senza parola Era difficile Ma lui ce l'ha detto così Questo è in grado Di dire una cosa E smontarsi da solo Cioè io Praticamente Sono appoggiata Ma si è smontato lui Da solo Io trovo Samuele Equilibratissimo E onestissimo Intellettualmente E non facciamo un processo O un mezzo Che ha ragione Samuele Samuele Io sposo Ogni minima parola Di quello che ha detto Fino adesso Ma poi Esce fuori un argomento Molto interessante Sono molto curiosa Di sapere Che idea ti sei fatto Di questo arresto Si è scelto di arrestare Di mettere agli arresti domiciliari Matteo Guarda allora Io stamattina Appena ho letto Vabbè è normale Questo Sì Dovrebbe essere così Vabbè Ma ieri Secondo me Era in casa L'altro ieri Pure E sapete perché ve lo dico Matteo sotto ogni posto Sotto ogni commento Riceve minacce di morte Da chiunque E così tutti quelli Che erano in macchina Insieme a lui Da un giorno all'altro Si sono ritrovati Con minacce di morte Ovunque Quindi ora Il fatto che siano Agli arresti domiciliari Non cambia nulla Perché ieri Erano in casa Non si muovevano E le news Andavano a dire Che loro erano in Spagna E in Turchia Ora io voglio sapere I giornali Che pubblicano notizie Senza sapere effettivamente Come sono andate le vicende Un esempio è la news di ieri Che Matteo Era in Spagna E un altro ragazzo Di The Borderline In Turchia Questa news Nel momento in cui Qualcuno la va a leggere Che idea si fa Di questi ragazzi Che cosa va a pensare Ecco Allora Cioè Un articolo di giornale Se sbagliato E non rispecchiante La realtà Può veramente Rovinare una vita Cioè Il video su YouTube Che fa un milione di visualizzazioni Perché il titolo è clickbait Al massimo ti fa perdere Cinque minuti di tempo Perché non volevi guardarlo Il titolo sul giornale Ha rovinato tante vite Di persone che non se lo meritavano La chiappa click È un problema Che a volte riguarda Lo stesso giornalismo E che il titolo più ad effetto Piace di più È diventato un problema Anche per noi Un conto Siamo noi YouTuber Che utilizziamo Una chiappa click Per ottenere più visualizzazioni Di nostri video Un conto In questo caso No Questo non c'è Assolutamente Niente Sono d'accordo Sulla roba di prima Così un po' Il discorso vittimista Che loro sono in casa Perché Oddio Stanno soffrendo E sì Purtroppo Hanno ammazzato Un bimbetto O hanno ammazzato Un bimbetto E quindi Chiaramente L'opinione pubblica Si è rivoltata Hanno fatto bene A dire quelle cose A minacciare di morte A commentare in quella maniera Assolutamente no Io non sono d'accordo Io non sono per la legge Dettaglione Quindi non sono Nemmeno per i forconi Ci mancherebbe atto Io sono per la giustizia Per i tribunali Eccetera eccetera Però È anche Strano Aspettarsi il contrario Perché I forconi Sono un po' Difficili da debellare Se non È proprio impossibile È utopico Pensare Che la gente Ha una notizia del genere Non imbracci I forconi Seppur virtuali Perché io credo Che poi Questa gente vi Poi bisogna vedere Quello che scrive Lo può fare È in grado di farlo Secondo me No però Questa è la mia opinione Bisogna semplicemente Prendersi le proprie responsabilità E basta Se è a domiciliari Secondo me È anche un Buon segnale Dire ok Li abbiamo messi a domiciliari Così la gente magari Si calma E hanno già fatto Un primo passo E questi si stanno radunando Per cercarli secondo me Non lo so Vabbè Comunque raga È impossibile pensare Di debellare i forconi Nel mondo di oggi Perché I forconi Virtuali E non adesso Si imbracciano Se si cambia colore A un attore In un film live action Figuriamoci Se uccidi un bimbo E sei Anche uno youtuber Che guadagna 800 mila euro l'anno Quindi È un po' un casino Purtroppo Questo è il mondo Con cui abbiamo a che fare Tutti i giorni Quindi Dire Eh no Dario Però non si dovrebbe far così È un po' Da ingenui Eh si potrebbe fare qualcosa Per migliorare questa situazione Forse Ma te Vagliela a dire A delle persone Magari ignoranti Che hanno la terza media E che vedono la notizia Sul telegiornale E basta E vedono Eh Youtuber Uccide bambino Con una Lamborghini E che commentano Stanno lì Vanno I maledetti Bisognerebbe Sgozzarli Bisognerebbe Bruciarli Ammazzateli tutti Buttateli Nellì Le vasche Nellì squali Merde Vaffanculo Oh Peppa Preparami il ragù Se il nostro Stasera ti picchio È un po' difficile Andare lì Gentile signore Però ci sarebbe La giustizia Prima bisogna Fare intervenire Bisogna ammazzarli Tutti Quelle merde È utopico È utopico Ed è pieno Di persone così Sono stati giornali Che per ottenere Più visualizzazioni Sui loro articoli Hanno scritto Un sacco di falsità Come la news di ieri E soprattutto A persone che Veramente in questa questione Non c'entrano niente Ma non è l'Italia Raga È in America Perché non fanno così Cioè in America Non fanno così Raga Vai a spiegare No Aspettiamo Che la giustizia Faccia il soccorso Bisogna dare Besparmi Qui E tutti i ragazzi Che lavorano per i The Borderline Che erano dietro in macchina A fare i video Per i cavoli loro Che da un giorno all'altro I sono ritrovati la vita distrutta Perché non possono uscire per strada E qui non sto difendendo Matteo Ma ci sono delle persone in macchina Che sono finite Sulla prima pagina del giornale Ed erano dietro Magari a farsi i cavoli loro Sono vinti sulla prima pagina Questi manco sapevano Che c'era stato l'incidente Perché non hanno avuto il tempo Di realizzarlo E ora non possono uscire di casa E hanno minacce di morte ovunque Perché? Perché i giornali Devono fare due euro in più Ma detto questo C'era un piccolo particolare Che ancora mi dava fastidio da prima Puoi che un ragazzo di 19 anni Vabbè sugli altri sono d'accordo Sì certo Però ecco Il linguaggio Il metodo comunicativo Vittimista Perché lui Sono in casa Secondo me La poteva in tavola meglio E uscirne meglio Come dicevo prima Andiamo avanti Perzi gli strumenti che ha Immaginandosi addirittura Imprenditore A mio avviso Tra cinque Ma perché hanno un problema Con questa cosa? Cinque o sei anni Samuele Avrà cambiato radicalmente idea Eh sì Tra cinque o sei anni Il mio obiettivo È spostarmi su Olifanzo Ma raga il Vabbè A parte il cringe Ma io Dieci anni Forse di più Dodici anni E fa questo lavoro Mi garba Voglio fare questo Ma perché devo fare qualche cosa Vabbè Il programma stava per finire Mi fanno in cuffia Hai una barra Hai cinque secondi Per dire quello che vuoi dire E poi il programma finisce Io non sapevo che cosa dire Allora mi sono inventato questo Io non sono un mezzo imprenditore Fino a prova contraria Ho due SRL Pago le tasse Mi dà fastidio il termine Mezzo imprenditore Ecco allora riprenderemo E continua così Ho esagerato Non lo so Però mi sentivo di dire No Hai detto la verità Sì L'hai flexata C'avevi cinque secondi L'hai chiusa così Droppando il mic Però Vabbè E quindi l'ho detto Ma la puntata Aveva fatto così tanto successo Che raga Il giorno dopo Mi chiama Un altro canale Della Mediaset Ma sei un fra Non più Controcorrente su rete 4 Ma stavolta andavo su canale 5 Io già mi immaginavo Studi professionali Finalmente sono lì In stanza con tutti Finalmente posso portare La mia ideologia in tv Davanti ad ancora più persone Invece questa volta è finita La tua ideologia? Davvero male Parliamo dal presupposto Che quello che sta parlando È Mario Giordano Un noto giornalista E non lo so Perché non lo seguo Come lui non sa Ma non è che va seguito Cioè Non è che sei uno stalker Vabbè Comunque andiamo avanti Saprà chi sono io Giustamente Comunque molto importante E in studio poi c'è Simona la conduttrice E un altro giornalista Mi sono già da subito Reso conto Che in questa puntata Al posto di essere ascoltato Grazie Matteo Avrei avuto tutti contro Sarebbe stata guerra A cielo aperto Samuele tu sei amico di Matteo Insomma oggettivamente Hai definito addirittura Questo incidente Un incidente sul lavoro Questo è un incidente sul lavoro E per quanto riguarda le regole Il fatto che su YouTube Non esistano regole È una credenza Io ho caricato tantissime volte Si sta accursando Proicamente ogni minuto Sempre di più Contenuti che Per le norme di YouTube Che si adattano Alle norme dell'Unione Europea Non erano adatti E questi contenuti Vengono censurati O demonetizzati Ma dopo aver spiegato Per l'ennesima volta Come funziona YouTube Aprite bene le orecchie Perché sentirete Forse la c***a più grande Che abbiamo mai sentito Negli ultimi vent'anni di vita Se me aggiungo una cosa Importante e pratica Alziamo l'età della patente Passiamo a 25 anni Sì 64 64 Così i ragazzi che vogliono lavorare Lavorano un'altra volta Ok? Madonna Un piccolo cantico Un'età Un'età Io rispondendo Alla signora di prima L'alzerei a 40 L'età della patente L'età Sì La metterei a 40 anni Sì La metterei decisamente A 40 anni Perché Si deve che poco Si ducca nei due poitanei No no Perché a 40 anni Gli incidenti non possono capitare Questo è regolare Cioè te sei seria Cioè la gente Era 40 anni Si manda la foto del c***o Mentre guida Cioè Veramente Impossibile Mente convinta che io Dopo che dico una roba del genere Sono serio Cioè ma come fai a pensare Che sono serio In qual modo Un video Sulla Lamborghini È più pericoloso Un video Ripetiamolo Ripetiamolo 50 ore 50 ore 50 ore Non guidandola Vabbè che cascara Oh fatemi parlare Sto spiegando Cosa parla Non sapete Cosa voglio dire Ma non possiamo dimenticare Che c'è Un bambino di 5 anni Che morto Dall'altra parte Dei ragazzi Che stavano facendo Un gioco scemo Per guadagnare dei soldi È un modello Stupido E vi devo entrare Ma dipende Ma dipende cosa succede In questa Ma succede come può succedere A un tassista Allora i tassisti Che guidano E non Samuele Samuele Vedi questo No però non si può Ma Ma buttala in casciara Io blazer Blazerone mio Io l'avrei Veramente buttata In casciara totalmente Cioè Vabbè È quello che Realmente mi dispiace Che passa per Questo Per quello che ha appena detto Lui Quando in realtà Questa è la No il cazzo no Però veramente Avrei preso per il culo Tutti e via Basta È possibile Visione di chi non vuole Approfondire l'argomento E di chi Vede tutto quello che facciamo Tutto quello che gira sul web Come un gioco scemo Ma perché non vogliono Nemmeno sapere Cioè non gli interessa Sapere la tua opinione In realtà Te Quando vai in un programma Del genere Te Vai in un programma Del genere Per fatti prenda Freccette Basta Nerviso Sei il loro bersaglio Punto Quindi è meglio non andare E se vai Pigliali per il culo Perché tanto non ne esci Stupido Quando in realtà Noi facciamo intrattenimento E quello che è successo È un vero e proprio incidente Sull'intrattenimento Che volevamo fare Perché Un conto E se ora tu Mi dici Faccio un video In cui metto Palesemente In pericolo Quella muore Durante la registrazione Allora È colpa mia Ma nel momento in cui Io guido una Lamborghini Come farei nella realtà Fuori dalle telecamere E non mi sto riprendendo Il telefono Tenendo il telefono così Senza neanche riuscire a Io però ormai Sono attratto Da questo outfit Sì Cioè è uguale a coso È uguale a A quello di Jurassic Park Cioè Jeff Goldum Jeff Goldum Sì Goldum Lo pronuncio sempre male In Jurassic Park Eccolo lì Eccolo il nostro blizzerone Vedi Eccolo lì lui Eccolo Ecco il blizzerone Questa sì che è una bella montagna di merda A guidare Sto guidando con un cameraman di fianco che mi riprende Non sto Ma poi tutta trapuntata Dio meo Sto mettendo repentaglio la vita di altre persone Poi sul fatto che Matteo andava troppo veloce Siamo tutti d'accordo raga Siamo tutti d'accordo Ma che va veloce Non c'entra niente da se sta registrando un video Se non lo sta registrando Questo è il primo caso di un incidente del genere causato da youtuber Perché? Perché non sono così frequenti? Forse perché non è un lavoro così pericoloso come dicono Ci sono tanti lavori che hanno ucciso molto di più che lo youtuber Tantissimi lavori che uccidono molto di più che lo youtuber Ma si Però non paragonare questa roba qui alle morti bianche Perché sono cose un po' diverse Mi sembra che lui abbia messo degli articoli di morti bianche Due vittime incidenti sul lavoro Cioè un conto è perché l'azienda non mette in sicurezza gli operai Li fa morire Perché è così che funziona Non si spende soldi per la sicurezza degli operai Per aggiornare i mezzi proprio di sicurezza Per farli lavorare tranquilli E quindi gli operai muoiono per colpa dell'azienda Ok? Un conto è un tornitore che è il responsabile Fa ma che cazzo me ne frega io non mi metto niente E poi fa cazzate Ma se l'azienda non fornisce caschetti Non fornisce le imbragature Non fornisce quello che deve fornire per mettere in sicurezza gli operai L'operai muoiono è colpa dell'azienda È una cosa un po' diversa Bisogna andare a vedere caso per caso Questi sono ragazzetti che andavano a 120 Hanno fatto la cazzate Hanno stempiato un bimbetto Punto Quindi poi vedremo poi tutte le sfumature del caso Sperando che non sia questa velocità enorme Questi 120 km orari non siano stati raggiunti per la challenge Vedremo Sembra di no però vedremo Lavori che hanno ucciso molto di più che lo youtuber Tantissimi lavori che uccidono molto di più che lo youtuber Stempiato ragazzi da noi a Livorno è ucciso Ma siccome il nostro Scusate per l'inflessione dialettale Hanno ucciso un bambino Sembrava irrispettoso ma è dialetto Lavoro nuovo e siccome guadagniamo e questo dà fastidio Allora se la prendono con noi Una domanda velocissima a Samuel Posso fargliela? Nel tuo percorso i tuoi genitori Visto che qui si parla di quello senza cintura Il papà complice I tuoi genitori ti supportano? Ti sostengono? Sono d'accordo con quello che fai? Non vi parlate? Vi sentite? Certo che ci sentiamo Ma che cazzo dice? Cioè è veramente un delirio dopo l'altro Vivo da solo da tre anni Non ti devi neanche permettere di parlare dei miei genitori Loro non c'entravano niente in questo discorso Come fai ad uscirtene con un discorso del genere? Questo è quello che è successo in tv Ah no un piccolo aggiornamento In realtà non è finita qui Perché il giorno dopo ho avuto il coraggio di richiamarmi in trasmissione Vi faccio sentire io che cosa gli ho detto Ti posso dire onestamente ma proprio da persona più grande te lo dico Direttamente o no Ha comunque un programma che è tanto visto Ti posso dire cosa? Io quello che ho fatto l'ho fatto Perché fanno sempre così eh? Non è la prima volta che mi capita di sentire questi discorsi Non si dice di no alla media Se tu non si dice di no a una trasmissione grande Perché così? Che cazzo vuoi? E non l'ho fatto per la visibilità? Anche perché non mi porta niente Non vengo per fare una figura come quella che ho fatto l'ultima volta Io capisco che la puntata fu share Capisco che funziona Capisco che è Ma in cosa hai fatto figura? Ma che sappiamo di così schifoso? Sì ma io vado lì a dire che l'incidente non è causato dal fatto che noi siamo youtuber Ma è un incidente stradale Come ho detto questa frase Tutto lo studio compreso la conduttrice mi fa Ma come si fa a dire una roba del genere? Ma come? E allora che cazzo vuoi vedere? Cioè dai Ne ha fatto Beh avrei risposto così anch'io Forse sarei andato anche più pesante io probabilmente Quindi lo capisco No non era il pennarello in mano Era una sigaretta elettronica amici Io avrei fatto ben di peggio Sì sì assolutamente Sì poi vabbè anche qui Blazerone te lo devo dire Cioè fai un video sull'incidente in macchina Dove comunque racconti tutta la televisione E poi dè una mano sul volante Una sigaretta elettronica Cioè stai attento perché la gente passa da queste robe Per dirti Che cazzo fai? Incoerente? Cosa? È ipocrita? Sì furbo? Fatti furbo? Anche nel mezzo al video ho sentito Due o tre stronzate Che secondo me Insomma ci si poteva riflettere un po' meglio O anche se avevi intenzioni buone Ovviamente do sempre il beneficio del dubbio Si potevano comunicare un attimino meglio Però va bene Va bene Hanno detto tante cazzate Ti hanno riempito di coglionate Va bene capisco l'incazzatura Su certe cose sei stato un po' troppo Secondo me Detto con affetto quasi paterno Sei stato un po' troppo paraculo Un po' troppo All'acqua di rose E anche un po' troppo vittimista Per cercare di prendere difese Di un paio di persone Però va bene Va bene Ok dai Tutto sommato ci può sta Capisco anche il tuo punto di vista E su tante cose sono d'accordo con te Quindi Però stai attento a questa roba Sì Se fosse tuo figlio Quello tirato sotto a due stronzate Oh Qua Lucas Ti giuro Io è un'ora Che sto guardando la chat Per trovare questo commento E finalmente ce l'ho Godo Però mi metto in full cam Se fosse tuo figlio Come quando si parla degli immigrati Portateli a casa tua allora Non ci devo pensare io agli immigrati Ci deve pensare il governo che pago profumatamente Hai capito? Ovvio che se fosse stato mio figlio Avrei rosicato di più E sai perché? Perché sarebbe stato mio figlio E perché nel mezzo A tutto questo casino Ci sarebbe anche la componente Umana E personale Sentimentale Che mi influenza Perché non siamo delle bestie o dei robot Ma Siamo delle persone Fatte di carne E sangue Che provano sentimenti E quindi sì Sarei gonfio di rabbia Gonfio di tristezza E gonfio di voglia Di vendetta Ma Ma Per fortuna Non sono un giudice Per fortuna Non mi occupo di questo processo E quindi Devono essere Giudici Chi di dovere A fare giustizia Perché in questo mondo Giustizia per conto nostro Non si può fare Non si può fare Quindi è inutile Che la butti in cacciara E un'altra cosa Palline Io posso esprimere la mia opinione Ma Il caso estremo Di E se fosse tuo figlio Non serve a un cazzo In questa discussione A niente Perché la uccide e basta Perché è un paradosso È un estremo Che confonde solamente Le acque E che fa Fuggire le persone Dal punto Sono casi estremi Esempi assurdi Che non riguardano Questo caso specifico Bisogna rimanere nel merito Non uscirci a caso Semplicemente Per buttare in cacciara E fare demagogia pura Avete rotto il cazzo Confrontatevi Dibattetevi Anche in maniera Molto entrante Se necessario Ma fatelo Però non buttatela in cacciara così Perché uccidete Ogni forma di dibattito Cristo di Dio Ragazzi Sempre a fast E questo ve l'ha insegnato Salvini Posso dire che da padre Se qualcuno si droga Mi girano i coglioni Perché se qualcuno Si mette in macchina Si mette in macchina Ed è fumato E uccide mio figlio Mio nipote Mi girano i coglioni Ma cosa cazzo c'entra Con tuo figlio E tuo nipote Col fatto che la marijuana Resta nel sangue Per una settimana Cosa cazzo c'entra Col bimbo stampiato Sono due cose Che non c'entrano Una sega Se uno Fumato Alla guida Ammazza tuo figlio Verrà processato Verrà indagato Processato E messo in galera Per quello che ha fatto E se ha fumato Verrà punito Ancora di più Poi ripeto Ci si può mettere Qua a dire Ma la giustizia italiana Funziona Non funziona C'è la merda Non c'è la merda I raccomandati Sì Quello che vi fa è lunga E macchinosa Sì Va bene Ma rimaniamo nel merito Perché anche qui La stiamo buttando in cacciara Il bimbo Che viene ucciso Da un drogato Non vuol dire Che uno Se si fa una canna La domenia Al concerto Il primo maggio Prende la macchina L'otto maggio Lo ferma il carabiniere E ne apre il culo Queste sono due cose diverse Ancora Mo fa il duro Ma se avessero messo Sottagnese Ti voglio vedere Ti sei perso Gli ultimi 5 minuti Della live O hai perso Metà del cervello Mi sa Metà del cervello Però spero Che tu abbia perso 5 minuti Della live Perché Perché se no Come il dottor Finkelstein In Nightmare Before Christmas Ti hanno aperto il cervello Te lo sei levato Te lo sei appoggiato Oggi un voglio Capi un cazzo Apropigio Il cazzo Non mi serve Questo metallo Buono Cioè Abbi pazienza Prendi il telecomando E schiaccia Sai bene Quel totto Dina chi c'è Su Youtube È Ciuppi TV Prendi il telecomando Dina chi c'è E